benvenuti benvenuti che amici siamo beat in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like e per cui siate generosi con i like come avete visto dal titolo oggi vi regalo anche dei sandbox pensate 10 dollari di sandbox andiamo subito a vedere per cui voi andate su coin market cap earn sand and graph ora andiamo su sand e per cui vi uscirà questa questa pagina take the quiz noi naturalmente abbiamo già le risposte eccoli qua quindi andiamo a fare il nostro quiz come sempre next quiz non sono robot next naturalmente io l'ho già fatto ma rifacciamolo per i nostri amici ok noi metteremo le password tac dopodiché inseriamo il nostro identità di binance che troviamo nella sezione referral qui come vedete ok prendo copio tac incollo next ok a questo punto ci chiedono la la supply di sand come fare anche qui prendiamo qui sono tre miliardi sand quindi copiamo tre miliardi ok diremo qua tac 3 miliardi next ok la prima risposta è ethereum la seconda risposta è playing games la terza risposta è stablecoin la quarta risposta è e e e e e e e e vox edit all of the above nuovamente all of the above e integrate them integrate them yes quindi voi cliccherete submit e a questo punto vi chiederà ancora una conferma submit non sono robot submit form e avete completato il nostro quiz per cui arriveranno circa 10 dollari di sand andiamo a vedere un attimo il valore di sand al momento che vale circa 3 centesimi quindi pensate ne arriveranno penso un 3 mila 300 no 300 300 per 3 centesimi circa 10 dollari per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di mettere un bel like iscriviti al canale e ci vediamo presto ciao